Dopo il segretario di Stato USA, Mike Pompeo, anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha fatto appena Abruzzo alla riscoperta delle proprie origini. Le sue radici, infatti, sono marsicane. L'ex ufficiale dei Carabinieri, in realtà, è venuto in Abruzzo anche per una visita ufficiale. A Pescassero, infatti, si sono insediati i nuovi vertici del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise. Ad accogliere il ministro e il governatore d'Abruzzo, Marco Marsilio, che alla stampa ha ribadito che bisogna salvaguardare il patrimonio naturalistico e storico. Con i nuovi dirigenti dei parchi, insieme alla regione, svilupperemo le politiche sia per l'agricoltura che per la fauna, tutte le politiche che servono alla tutela, ma soprattutto alla valorizzazione di questo ambiente. Il ministro ha rivelato che con la legge di stabilità saranno costituite le ZEA, zone economiche ambientali per i parchi, affinché possano godere di vantaggi fiscali. Inoltre ha annunciato che arriveranno altri 85 milioni nelle aree interessate da parchi nazionali. Vuol dire dare un di più supplementare, non solo in termini economici, ma in termini anche normativi, alle persone, ai cittadini che vivono nei parchi. A margine dell'incontro c'è stata anche occasione di affrontare la questione della centrale SNAM a Sulmona. Stiamo riflettendo, ha dichiarato Costa, ribadendo la sua contrarietà. Intanto, però, il progetto procede senza ostacoli. Prima di abbandonare l'Abruzzo, il ministro si è recato all'Aquila, che ai suoi occhi è sembrata rifiorire. Verrei a vivere all'Aquila, ha scherzato Costa. Devo solo convincere mia moglie.